C'è stato di fatto annunciato che si parla di nuovo di un possibile accordo per una revisione del sistema fiscale per i lavoratori frontalieri che è in vigore dal 1974. Tema che era già stato parzialmente affrontato nel 2015, torna in auge e c'è stato detto che entro fine anno l'intenzione è quello di raggiungere un accordo. Noi abbiamo in questo momento, come si dice, ascoltato, è stato un primo incontro. Il modello è un modello che di base prova a separare i lavoratori frontalieri tra frontalieri vecchi e frontalieri nuovi. Per i frontalieri vecchi di fatto rimane in auge l'accordo del 1974, non cambierà di fatto nulla, mentre ci sarà un nuovo sistema fiscale per i lavoratori frontalieri nuovi. Diciamo che dal punto di vista dell'impatto nell'immediato, l'aspetto di avere questo doppio binario può facilitare perché comunque gran parte dei lavoratori avranno un impatto minimo. La cosa sul quale però noi stiamo insistendo molto come organizzazioni sindacali è il fatto che dobbiamo contemporaneamente affrontare anche il tema dei nuovi lavoratori frontalieri. Noi sappiamo tra l'altro che per quanto riguarda la partita fiscale, la partita fiscale dovrà essere affrontata nella riforma del fisco dello Stato italiano, che oramai anche il Governo da più tempo ne sta parlando. La cosa che chiediamo è che all'interno della riforma fiscale, del sistema fiscale italiano, ci sia qualcosa di particolare per cercare di tutelare questi nuovi lavoratori che non possono essere penalizzati. E soprattutto che le risorse aggiuntive che entreranno siano risorse che possano servire per costruire ammortizzatori sociali, formazione, tutti quegli strumenti che sappiamo fino ad oggi non sono stati a disposizione dei vecchi lavoratori frontalieri.